L'operazione ruota attorno alla società Eco Beach. Gli indagati rispondono di associazione a delinquere, corruzione, traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Vengono contestati anche i reati di realizzazione di discariche abusive, invasione di terreni, deviazione di acque, falso e abuso d'ufficio. L'organizzazione avrebbe beneficiato della collaborazione di funzionari pubblici corrotti che evitavano di effettuare i controlli. L'inchiesta ha preso il via nel 2016 e vede coinvolti come figure principali un imprenditore messinese e una società con sede legale a Giardini Naxos e stabilimento a Taormina. L'indagine è nata dall'ennesimo straripamento del torrente San Giovanni a Giardini Naxos. I militari hanno accertato che sull'alveo del corso d'acqua era stata realizzata una strada che portava allo stabilimento di stoccaggio della Eco Beach. L'insediamento industriale era stato realizzato in zona agricola, pur in assenza della procedura per la valutazione di impatto ambientale per il mutamento di destinazione urbanistica.